Originario di Bologna, Valentino Macchia interpretando parti di contorno in vari film a partire dai primi anni Sessanta. È stato ben voluto spesso dai registi Pupi Avati, Giuseppe Orlandini e Alberto Sordi. Valentino Macchi si congeda dal mondo del cinema intorno alla seconda metà degli anni Settanta per Poi farvi ritorno negli anni Novanta passando dal genere commedia anche a ruoli in un alcuni film drammatici, ritiratosi nuovamente dalle scene alla fine del 2008. Valentino Macchi muore a 76 anni nella sua casa di Roma, dopo aver accusato un malore.